Cinar, il mio aperitivo a base di carciofo. A proposito di carciofo, Caterina De Medici introdusse al Louvre molte novità per la mensa reale francese. Il panettone di Milano, il prezzemolo e i carciofi dei quali Caterina era molto ghiotta. Cinar, dopo pranzo lo bevo liscio. Perché bevuto liscio, Cinar è un ottimo amaro. Cinar, l'aperitivo a base di carciofo, una scelta naturale.